Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dangerous, io sono Rob e oggi parliamo del migliore amico del combattimento su Tarkov e cioè dei painkiller, delle morfine e così via per capire qual è il migliore e perché uno sceglie qualcosa rispetto a un'altra. Prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi i prossimi caricamenti ovviamente io streamo su Twitch, potete trovarmi su twitch.tv slash dangerous che è lì, la schedula è per poter partecipare alle live e interagire con me in tempo reale. Iniziamo! Eccoci qua con una visione di insieme di quelli che sono appunto i nostri painkiller preferiti, insomma coloro che ci aiuteranno durante le situazioni peggiori, ci faranno concentrare di più e ci elimineranno il problema dallo zoppicare nel caso dovessimo contrarre un arto nero e diciamo che ci salveranno la vita in tantissime occasioni qui su Tarkov. Abbiamo qui una lista ovviamente di quelli attualmente presenti e ovviamente utilizzati, ma vediamo perché qualcuno preferisce qualcosa rispetto a un'altra. rispetto a un'altra perché spesso anche vedo in chat come mai usi la vaselina, cosa serve la vaselina, perché le ibuprofene, non fai meglio a portarti il morfine injector, perché usi così tanti painkiller e così via. Allora ecco la classifica degli utilizzi. Io personalmente sono un grandissimo fan dei painkiller perché mi li porto sempre dietro. Qua in alto a sinistra potete vedere appunto i painkiller che non sono altro appunto che queste pastigliette che vengono utilizzate di 4 per volta, quindi abbiamo 4 utilizzi. I painkiller semplicemente fanno esattamente la funzione di scritta all'inizio come tutti questi altri prodotti. Abbiamo una rimozione del dolore di 170 secondi, dona concentrazione, ci ridurrà di meno 7 di idratazione, ma ne avremo 4 utilizzi. Il vantaggio è che sono molto poco costosi, quindi sono facilmente reperibili. Questi painkiller con un'animazione di 3 secondi ci permettono comunque sia di entrare in combattimento, in una fase di concentrazione abbastanza velocemente e ovviamente dovremo stare attenti quando l'effetto finirà. Ci aiuterà questo l'iconcina diciamo della meditazione che spawna in alto a sinistra a fianco al nostro omino insomma e questo ci farà capire quando e quanto sarà attiva. Personalmente li preferisco, utilizzo questi spessissimissimo, quindi non manca mai all'interno del mio pouch, all'interno del mio equipaggiamento un painkiller. Molto economici, utili, utilizzabili 4 volte. Quello che viene subito dopo è preferito anche da molti, è il Morphin Injector che dura decisamente di più, praticamente quasi, praticamente il doppio dei painkiller. Ha un tempo di iniezione di 2 secondi, infatti è velocissimo signori. L'unica cosa è che aumenta l'energia ma diminuisce l'idratazione di 10 rispetto che 7 come i painkiller, la cosa buona che appunto rimuove l'effetto contusione. Quindi il Morphin Injector è veramente una cosa, è un jolly che vi salva all'istante, vi dà la possibilità di entrare in combattimento in maniera fulmina. Portatevelo dietro, l'unica contraddizione è che costa davvero tanto, perché là dove i painkiller costano 3.900, il Morphin Injector arriva a costare anche 12.000 rubli, quindi contate, vedete un po' se siete, diciamo, a corto di soldi, non mi porterei sempre dietro il Morphin Injector, anche perché poi l'utilizzo è singolo, quindi potrete usarlo una volta e se poi non avete altro dietro saranno dolori. Entrando nel high ranking delle cose preferite, abbiamo qui la vasellina, che prima nasceva un pochino come meme, perché la vasellina curava qualsiasi cosa, ora hanno ridotto, diciamo, i problemi, prima curava anche perita di sangue, ossarote, tutto, curava tutto, adesso l'hanno un po' nerfata. Però la cosa buona della vasellina è che ha un tempo di utilizzo, vabbè, un pochino maggiore rispetto agli altri, ma è incredibilmente efficace, abbiamo una durata della rimozione del dolore di 500 secondi, quindi dura davvero tantissimo, signori. Può essere utilizzata 10 volte e vi diminuerà poca energia e pochissima idratazione rispetto ai primi due che abbiamo visto. Si trova spesso in raid, se avete, diciamo, la pazienza di farmare anche all'interno di shoreline o comunque di fare ricerche varie, la vasellina potrete trovarla sugli scaffali, eccetera. Ha un valore di mercato abbastanza alto, ma ne vale davvero, davvero la pena. È un compendio veramente utile per quanto riguarda l'andare in combattimento e, signori, questa dovrebbe mai mancare, non dovrebbe mai mancare all'interno del vostro pouch. Ovviamente io ho un'altra preferenza rispetto alla vasellina in questo caso qui. Ibuprofene. Questo, ragazzi, è ben o male il to go praticamente di tutti. Ha un utilizzo di 12 punti vita, quindi potete usarlo 12 volte. Una confezione dura davvero tantissimo, ma davvero tanto. Anch'esso dura 500 secondi come la vasellina. Vi rimuoverà 5 idratazione, ma non vi rimuoverà l'energia. L'utilizzo di 5 secondi, quindi un secondo in meno rispetto alla vasellina, due secondi in più rispetto a VinKiller. Ma grazie alla sua durata, ragazzi, abbiamo tanta tanta roba. Ibuprofene è praticamente ciò che vedo preferibilmente prendere tutti quanti. Anch'esso ha un costo un pochino elevato. Attualmente si può acquistare sul flea market. Comunque state attenti sempre a quanti HP viene venduto. Cercate sempre gli oggetti in condizione al 100%. Rimozione del dolore, tutto quello che vi serve, vi dà ovviamente concentrazione e via così. Ma per me chi è che vince il podio? Il podio, ragazzi, è vinto a mani basse dal Golden Star, che è sinceramente il massimo che potete desiderare. Ovviamente comprare il Golden Star risulta un pochino costoso, ma vi dà tutto. Il Golden Star, ragazzi, è il Game Changer. Utilizzo di 7 secondi, quindi quello che è più lungo di tutti quanti i Painkiller in circolazione. Però vi dà intanto aumentare l'energia. Vi dà la possibilità di recuperare sia energia che idratazione. Quindi se state perdendo liquidi, lui vi dà la possibilità invece di recuperarne più uno. Durarà per 5 secondi. Quindi è come se per 5 secondi fermasse la perdita di liquidi e di energia, oltre che a darvene in più. Ma vi darà 600 secondi di durata. Scusate dalle radiazioni però date in sì. Comunque 600 secondi di durata del dolore, contusione, intossicazione e radiazione. Attenzione che questi due valori non sono ancora attivi all'interno del gioco. Vi darà anche comunque la possibilità di essere utilizzato per ben 10 volte. E qua avete 13 perché l'ho usato già 7 volte. Ma questo Golden Star che sarebbe il balsamo di tigre, insomma. Cioè il balsamo di tigre che sapete che viene utilizzato anche nella realtà, no? Per curare contusioni. Brucia tantissimo però è efficace contro lividi, contusioni, eccetera. Il Golden Star ragazzi è il to go assoluto. Per Vericciado o tutti coloro che vogliono comunque avere una fonte sicura di painkiller. Infatti il Golden Star rispetto a tutti va sempre qua dentro ragazzi. Quindi tra tutti questi per me Golden Star vince. Se devo dirvi cosa portarvi a utilizzo subito come shortcut painkiller tutta la vita. Per cui gli metto sempre il 5, 4 sto con il salewa. Altrimenti se non avete la possibilità di avere un Golden Star ibuprofene qui tutta la vita ho vasellina. Però in ordine vasellina, ibuprofene, Golden Star, Golden Star è il to go finale ragazzi. Questo non deve mai 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 mancare a mio avviso all'interno del vostro pouch. Quindi andate tranquilli che questa potrebbe essere la scelta. Se avete ovviamente dubbi o quant'altro scrivetemi lì qua sotto. Sarò lieto di discuterne con voi. Per ora vi ringrazio del vostro tempo. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nemmeno un caricamento. Se volete supportarmi signori come al solito lasciate un like al video, commentate qua sotto, condividetelo con gli amici. E non perdete occasione di farmi domande o qui oppure su Instagram, sugli altri vari social. Niente ragazzi tutto il resto lo trovate in descrizione. Io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo sul campo. Grazie a tutti.